Siamo al termine dell'allenamento con l'opposto di Uole Tricolore Diego Cantagalli. Seconda di ritorno e prima trasferta del giro di andata. Cosa ti aspetti domenica? Mi aspetto una partita molto combattuta e molto tesa perché Lago Negro è una squadra in cerca di punti come noi. Di conseguenza mi aspetto un match di quelli belli. Pieni di adrenalina, tante difese, scambi lunghi. Quindi sì, una partita secondo me molto impegnativa. Siamo con il libero della formazione reggiana Ernesto Torchia. Cosa ti aspetti dal prossimo incontro con Lago Negro, penultima in classifica ma non da sottovalutare? Sicuramente la classifica in questo campionato conta poco. Si rischia con tutte le squadre ogni domenica. Sarà una trasferta lunga e sarà una partita molto dura perché Lago Negro è un campo molto caldo ma noi andiamo convinti a provare a fare il risultato. Siamo con il secondo allenatore Fabio Fanuli. Cosa metterete in campo domenica con Lago Negro? Sicuramente domenica è una partita chiave per il proseguo della stagione, per l'esito della classifica finale. A mio modo di vedere è una squadra che non è partita benissimo. Lago Negro ha cambiato qualcosina, ha un po' l'assetto in campo e adesso esprime un'ottima pallavolo. Infatti io penso che la classifica non rispecchi il reale valore della squadra. Sarà come sempre una battaglia. Spero e credo, sono convinto che ci faremo trovare pronti.